benvenuto a tutti a questo nuovo video questo è capitano andy e oggi per voi ho una bomba dopo la marcatura del nostro amato air 2s dopo il simulatore con avata 2 questa è un'altra esclusiva italiana scoperta in rete non in italia ovviamente poi lascerò il link del video grazie a quale ho scoperto tutto questo ma ve lo porto a voi in anteprima italiana chi come me è un felice possessore di avata 2 ha un solo grosso problema non riesce a inserire l'hfcc come faceva una volta ed è costretto a pagare un'applicazione di terzi che va a modificare dj fly non riesce più andare in modalità fcc in modo gratuito o almeno pensa di non riuscirci perché appena ha avuto la possibilità ha messo il codicino come faceva con avata 1 dentro gli occhiali ha fatto partire tutto poi è andato a controllare e ha visto che i canali comunque non si potevano andare a mettere in modalità manuale e non gli erano aumentati quindi da qua abbiamo tutti iniziato a presupporre che noi l'fcc in modo gratuito e senza pagare un'applicazione di terzi con dj fly a carata non potessimo averlo lasciatemi dire prima di tutto che andare in fcc in europa è vietato della legge quindi quello che sto facendo ha solo uno scopo didattico e vi sconsiglio di farlo iniziamo anche col dire che comunque in ce abbiamo meno potenza ma abbiamo una nuova banda che nemmeno in america hanno dove comunque il segnale viene sparato forte quindi già in modalità ce comunque abbiamo un range elevato di circa 700 800 metri poi lo sapete benissimo che in base alle condizioni dell'ambiente in cui ci troviamo questa distanza può anche variare di molto ma andando alla parte succosa del mio discorso se io vi dicessi che siamo riusciti a mettere in fcc ma l'unica cosa che è rimasta bloccata è il test che avevamo visivo noi per capire se eravamo in fcc oppure no ovvero la possibilità di mettere i canali in modo manuale andare a vedere che erano aumentati effettivamente l'applicazione rimane bloccata ma il nostro segnale è aumentato la potenza è aumentata e quindi siamo in fcc lo stesso anche se dall'applicazione non riusciamo a capirlo qual è l'indizio madre che tutti quelli che hanno provato a fare ovviamente questo tentativo e poi hanno detto no l'fcc non ce l'abbiamo poi sono arrivati a mettono in modalità manuale e in modalità manuale chissà come mai la velocità non era quella dichiarata ma era molto più veloce e si sono stupiti gli hanno in stadia è la marcatura c1 però non funziona così perché dovrebbe avere un certo di velocità invece ne ha un'altra c'è un piccolo problema che l'fcc ce l'hai messo tu non ce l'ha messo dji quindi questo è un grosso indizio per capire che forse abbiamo veramente l'fcc e non siamo più in ce anche se non riusciamo a modificare i canali d'applicazione adesso io ovviamente vi porto la notizia ma ho pochissimo tempo per testare queste cose sul campo però adesso vi mostrerò una tabella molto chiara e molto precisa che la mia fonte da cui ho preso spunto per questo video vi ricordo che vi lascio il link del video da cui prendo tutto questo materiale attestato con gli strumenti giusti la potenza che ha scoperto anche che la o4 ha un sistema molto avanzato di trasmissione che seleziona il canale facendo anche dei grossi salti di banda per trovare quella più libera e quella più giusta in quel momento e soprattutto che la potenza non la spara tutta insieme ma la spara se veramente ha bisogno di darla quella potenza quindi ha dovuto tenere lontano drone e visori per avere il massimo del segnale in fcc quindi adesso bando alle ciance faccio vedere anche a voi la sua tabella ok eccoci qui nudo e crudo quello che ha trovato lui qui abbiamo la potenza del segnale la velocità massima la selezione o no dei canali in maniera manuale e la frequenza delle mande abbiamo il nostro il c mod e ci fa vedere che nella normalità abbiamo la 5.8 questa nuovissima 5.1 e a 2.4 come vedete con la fcc che ne ha solo due le potenze noi andiamo a 25 milli watt loro vanno a 1600 ovviamente una volta le prendevamo di brutto adesso con questi 200 milli watt comunque qualcosa di discreto riusciamo a farlo la velocità massima dovrebbe essere 19 metri al secondo ovviamente andando a 27 capite che qua abbiamo un grosso indizio perché abbiamo la velocità delle fcc poi non possiamo vedere la selezione manuale del canale quindi questo è quello che ha fregato tutti noi abbiamo detto non possiamo vedere i canali in modo manuale quindi non abbiamo fcc anche perché poi all'inizio c'è la battaglia che arriva prima queste notizie clickbait video di lamentele soliti e quindi poi alla fine nessuno aveva approfondito veramente con dei test specifici con degli strumenti specifici quindi come vedete con il c mod più quel file che mettevamo nei nostri visori con l'avata 1 quindi prima serie riusciamo a far sparare a 1600 queste due bande e in più ci si aggiunge anche la banda 5.1 qui lui però si riserva ovviamente con degli asterischi che non è ancora riuscito a provare nelle specifiche con gli strumenti adeguati queste due bande però è sicuro che la 5.8 la spara a 1600 la velocità sappiamo tutti perché è uscito in tutti i video che è molto più veloce di quello che dovrebbe essere per la marcatura c1 ovvero 19 metri al secondo l'unico grosso difetto in ciò che ci rimane è la selezione del canale che per un dronista diciamo del weekend che vada solo a fare dei voli tutto il resto non da nessun tipo di problema il problema si può porre se andiamo a volare con qualcun altro che magari vola anche in analogico e poi ci disturbiamo con le frequenze non c'è la possibilità in questi occhiali hanno fatto può sparire anche i numerini quelli che si vedevano lateralmente del cambio canale adesso anche qui bisogna vedere un attimo questa o4 se è tanto intelligente non disturbare le frequenze già occupate da altri oppure è proprio un problema strutturale che forse risolveranno con qualche aggiornamento dell'applicazione in futuro per permettere anche se non sono in fcc comunque di andare a mettere un canale che non disturba anche quelli che vorranno con me quindi anche qua poi ci prenderemo un po di tempo per testare il volo soprattutto con tanti avata 2 insieme e vedere se i piloti si disturbano uno con l'altro adesso molti di voi che magari non avevano lavata 1 e sono entrati il mondo delle fpv con lavata 2 andiamo a spiegare bene come fare il passaggio per hackerare in modo gratuito il blocco del drone e metterlo in fcc con la potenza massima allora il sito è sempre il solito dei nostri amici beyond e link in descrizione mi raccomando poi vedete dis file va scaricato questo file ragazzi fatemi un favore il file è un file senza appunto qualcosa non venite a scrivere io ho fatto un pdf perché non mi funziona perché io vi voglio bene e vi aiuto lo sapete vi rispondo comunque però mi fa un po dubitare sull'umanità queste cose ogni tanto dico perché ho metto vita non ci prende non ci fa estinguere tutti vi dico prendete questo file come è fatto non è un pdf lo trascinate dentro la micro sd dei vostri occhiali deve essere formattata vuota accendiamo gli occhiali li facciamo partire connettiamo la radio connettiamo il drone e poi spegniamo tutto e da qui in poi avremo la fcc sbloccato io comunque vi lascio linkato sia sopra che sotto il video che avevo fatto con la vata 1 il procedimento è lo stesso solo che usavo i google 2 e lavata invece che il google 3 e lavata 2 mi raccomando bisogna solo prendere questo file portarlo nella micro sd mette la micro sd nei visori accendolo e tutto funziona alla perfezione ovviamente sono sicuro che là fuori ci sono un sacco di piloti che hanno avuto diverse esperienze magari qualcuno volato già con altri avata 2 qualcuno ha volato già con altri droni magari analogici e se vuole raccontare le sue esperienze per la community qui sotto in descrizione ci fa un grosso piacere perché io non ho avuto tanto tempo di andare a fare pratica o studiare sul campo quello che vi sto dicendo adesso un altro test importante che farò il prima possibile è vedere il range test per vedere quanta distanza raggiungiamo perché la velocità so già che si raggiungono velocità maggiore di quello che dovrebbero essere voglio vedere vorrei sapere da voi se il vostro range test va oltre i 700 800 metri e questo è un altro grosso indizio che la fcc anche se nell'applicazione non possiamo vederlo in realtà l'abbiamo inserita ovviamente inserendo questo file nei nostri occhiali la cosa buona è che è gratuito non costa niente non succede niente se non funziona massimo abbiamo perso cinque minuti della nostra vita come vedete sono qua per aiutarvi arrivare prima degli altri lanciarvi queste piccole notizie bomba il prima possibile quindi se volete ricalzarmi e basta un like che mi fa molto piacere sia me che all'algoritmo di youtube iscrivervi al canale perché non si smette mai di scoprire cose nuove ceri serena tutti ci vediamo al prossimo video ciao ciao sono mini 2 per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra in alto a sinistra c'è il video che youtube consiglia per te in basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone in basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse ti ringrazio di averci seguito fino a qui ora devo andare